Amiche e amici rossoneri ben ritrovati su Milanello, il nostro canale YouTube dedicato al Milan con più aggiornamenti ogni giorno sottolineo più perché un anno fa siamo partiti con un video al giorno, almeno un video al giorno l'abbiamo sempre fatto poi sono diventati due, ultimamente sono anche tre perché c'è tanto, tanto da dire e c'è tanto da stare insieme qui appunto su YouTube Milanello se non l'avete ancora fatto ragazzi ci dite che il miglior canale è sul Milan su YouTube e noi ci fidiamo di voi scherzi a parte ragazzi iscrivetevi qui, banderina rossonera, attivate anche la campanella mi raccomando perché è importante per avere le notifiche ogni volta che viene pubblicato un video e lasciate i like qui sotto come segno di penso stima nei nostri confronti se avete stima nei nostri confronti oppure stima nei confronti del Milan oppure per semplicemente dare un forza a Milan a tutti insieme mi raccomando siete sempre un po' pochi a lasciare il like rispetto ai tantissimi decine di migliaia che vedete ogni video e dunque mi raccomando vi tiro un po' le orecchie colgo l'occasione per dirvi che stasera alle ore 20 e 30 faremo una diretta, la live con l'avvocato del diavolo Emiliano Nitti che da esperto nel settore si occuperà del caso Ibra con tutti gli attacchi che vengono da fuori e difenderà il nostro assistito, il suo assistito Zlatan Ibrahimovic e parlerà anche di mercato a pochi giorni dalla chiusura mercato che potrebbe riservare un altro colpo per il Milan non vi anticipo nulla, stasera potete fare le vostre domande a Emiliano Nitti scatenato come sempre allora ragazzi avete visto c'è qualche buona notizia innanzitutto è giusto pensare anche al campo ovviamente si gioca domenica, scusate sabato alle ore 15 contro il Bologna in trasferta partita non facile partita non facile che secondo me è un ostacolo da superare bisogna scavallare questo ostacolo e poi per un motivo o per l'altro che adesso vi spiego potremmo essere tutti più tranquilli bisogna superare questo ostacolo perché non abbiamo sicuramente Chiaer e non abbiamo probabilmente di Koscianoglu che oggi era ancora positivo al tampone quindi questi sono i due assenze però auspicchiamo che poi per la gara successiva che giocherà non di venerdì ma di domenica alle ore 15 recuperi Chiaer Neoglu che tra l'altro i primi giorni aveva dei sintomi poi li ha superati e adesso si sta allenando in palestra a casa nella palestra di casa e sta provando a tenersi in forma per farsi trovare tutto sommato pronto al rientro oggi è giovedì la gara è sabato vediamo se domani il tampone è negativo non deve avere un altro insomma una lotta contro il tempo però purtroppo sembra molto molto difficile averlo per questa gara mentre dai speriamo davvero per la gara successiva dovremmo averlo dicevo è una situazione ancora di emergenza che nella prossima partita non dovrebbe esserci più così accentuata perché c'è fuori probabilmente anche Diaz e lì ci sono diverse questioni ma c'è un recupero importante un recupero davvero importante che non è un titolare ma è la prima alternativa ai titolari mi spiego meglio ieri abbiamo dato la notizia del recupero di Mandzukic che potrebbe avere qualche chance di giocare forse dall'inizio ma secondo me più dalla panchina perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe abbiamo recuperato soprattutto Ben Asser che è stato fuori due mesi ha giocato solo una volta in due mesi però Ben Asser proprio per questo non credo proprio che partirà dall'inizio in quanto comunque deve ritrovare il ritmo partita deve ritrovare piano piano la condizione e nella tabella di rientro per la gara di sabato ci sono magari gli ultimi 20 minuti l'ultima mezz'ora e se entra lui può cambiare qualcosa a livello di posizioni la notizia comunque è del recupero di Tonali che fino a ieri era un po' in dubbio oggi ha lavorato in gruppo quindi Tonali lo recuperiamo e secondo me è questo un'ottima notizia è un'ottima notizia perché Ben Asser non poteva partire dall'inizio e senza di lui avremmo dovuto giocare con Mayte sul quale io credo per il futuro anche se si vede il futuro è subito ecco è domani però abbiamo visto anche con la seconda squadra di Milano in Coppa Italia non ha fatto bene anche a centrocampo oltre poi solo a tre quarti nella partita precedente con l'Atalanta e quindi vediamo come comunque Tonali non ancora in grande spolvero sia stato utile e prezioso mettiamo Tonali mettiamo Tonali dall'inizio e Ben Asser parte dalla panchina sulla tre quarti ci sono tre soluzioni ne parlavamo ieri c'è Daniel Maldini c'è anche la candidatura di Leao Correbic che giocherebbe ovviamente a sinistra e c'è secondo me quella più probabile che riguarda Krunic che torna dove ha fatto qualche presenza a inizio stagione che potrebbe dare un po' di equilibrio ma c'è una terza una quarta ipotesi meglio però a gara in corso e non credo proprio dall'inizio anche se effettivamente ragionando insieme a voi dall'inizio potrebbe essere vi spiego Mayte con che sia centrocampo dall'inizio e Tonali sulla tre quarti oppure più probabile Tonali e che sia centrocampo se serve l'ultima mezz'ora entra Benasser a centrocampo e Tonali può essere avanzato sulla tre quarti a seconda poi di come si mette la partita se devi un po' più contenere metti Tonali se devi un po' più attaccare magari ti giochi la carta Leao tre quartista questo per intenderci però recupero di Tonali importanti altrimenti avremmo avuto un'ulteriore emergenza a centrocampo dove rientra Benasser ma non può partire dall'inizio dovremmo avuto soltanto Mayte come carta spendibile dall'inizio per il resto anche il recupero di Manzuc che c'è importante c'è in questo momento molta tensione attorno al Milan ma noi dobbiamo trasformare in energia positiva isolandoci rispetto a quello che dicono fuori o comunque rispondendo per le rime al termine di questo video se vi va potete andare a vedere quello di questa mattina in cui vi rappresentavo un rischio che se si concretizzasse per Ibrahimovic per il Milan sarebbe devastante ma a questo rischio rispondo anche con dei dettagli cioè il rischio che con l'apertura del fascicolo da parte di FGC si vada a una squalifica anche per il campionato di Ibra poi ne parleremo e se vi va potete andare a vedere quel video in ogni caso ripeto secondo me dobbiamo scavallare questa partita vincere in un modo o nell'altro tornare a vincere e superare la gara col Bologna perché poi avremo fuori soltanto Chiaer a centrocampo avremo Benassar che può fare il titolare che farebbe il titolare e poi avremo anche Celanoglu perché si spera una gara dopo possa rientrare quindi dopo questa partita incrociando le dita dovremo avere soltanto un'assenza Chiaer magari per una partita soltanto o per due e quindi ripeto partita con il Bologna delicata tosta il Bologna ha perso con la Juve ma ha giocato bene è stata una buona squadra noi dobbiamo avere l'energia positiva ieri Teo Hernandez ha pubblicato una foto con tutti davanti a Ibra il gruppo è unito Ibra sono sicuro che vorrà farsi perdonare a suon di gol partendo proprio con il Bologna e credo che ci sia lo spirito giusto compatto Tomori dietro che a me non è affatto dispiaciuto nella partita di Coppa Italia compattiamoci da Teo Hernandez ci aspettiamo di più rientra Calabria che si era riposato e quindi anche questa è una buona notizia Salamakers dall'inizio con qualche minuto in più nelle gambe dai ragazzi bisogna andare a vincere e lo facciamo con qualche assenza ma con qualche recupero che secondo me può essere davvero importante scavagliamo Bologna perché poi tornano i nostri come si suol dire attenzione però anche al mercato perché da qui a lunedì quando chiuderà il mercato potrebbe esserci una sorpresa una sorpresa tra virgolette abbiamo identificato nel terzino sinistro l'obiettivo prima di tutti ne abbiamo parlato qui su Milanello chi ci segue da un po' di tempo lo sa e dunque attenzione perché si può muovere qualcosa e potrebbe essere la sorpresa ci dedicheremo magari un video approfondito con l'identikit intanto ragazzi like qui sotto per scavallare insieme per scavalcare per sfangare Bologna e iscrivetevi qui se non l'avete ancora fatto se vi fate andate a vedere adesso il video di oggi su Ibraimovic con qualche imperfezione di audio chiedo scusa credo che in questo video sia andato tutto bene da questo punto di vista un abbraccio stasera 20.30 diretta avvocato del diavolo Emiliano Nitti ciao